Ciao, bentornati. Oggi parleremo di Aristotele, ma lo faremo in una maniera diversa dalla solita, ovvero compiendo una comparazione, un confronto tra lo Stagirita e il suo illustre predecessore, nonché allievo di Socrate, Platone. Prima però, la sigla. Parliamo adesso di Platone ed Aristotele e cerchiamo di realizzare un confronto tra i due filosofi. In modo particolare noi abbiamo Raffaello Sanzio che raffigura nella frescola scuola di Atene Platone come una persona canuta e con la mano destra protesa verso il cielo, mentre Aristotele viene raffigurato come una personalità giovane con la mano destra indirizzata verso il pavimento di fronte a lui. La posizione delle mani, il differente linguaggio dei corpi non è casuale, ma risponde ad una differenza di prospettiva tra i due filosofi. Quali prospettive? Per Platone, ad esempio, la filosofia è una preparazione alla vita politica. Nella Repubblica, ad esempio, ovvero nel dialogo della maturità, Platone ci dice che i filosofi sono destinati ad essere i reggitori dello Stato, a guidare la comunità politica, la comunità ideale. Laddove, invece, per Aristotele la filosofia è uno sapere teoretico, cioè una conoscenza di tipo generale, gratuito, intorno alle proprietà prime della realtà in quanto tale, dell'essere in quanto essere. Invece, in Platone, il sapere, la conoscenza, è di tipo verticale, di tipo gerarchico, come raffigurato nella fresco, la scuola di Atene e di Raffaello, cioè la conoscenza è una conoscenza progressiva, man mano che si sale, dalla nostra realtà fatta di copie delle idee, sino alla realtà iperuranica, cioè dove hanno dimora sede le idee, e fin su alla idea somma, o all'idea gerarchicamente più importante, vale a dire l'idea di bene. Invece, in Aristotele, il sapere, al contrario di Platone, è orizzontale e unitario, riguarda, cioè, la realtà in generale, senza dover privilegiare alcun aspetto particolare della medesima stessa realtà. Inoltre, secondo Platone, bisogna privilegiare la matematica, la conoscenza matematica rispetto all'interesse naturalistico o cosmologico. Ricordate sempre il motto posto all'ingresso della scuola di Platone, non entri chi non è matematico, chi non sappia matematica, chi non abbia conoscenze matematiche. Invece, in Aristotele, al contrario, bisogna privilegiare lo studio della natura, lo studio cosmologico, l'interesse naturalistico sulla conoscenza matematica. Infine, in Platone, la conoscenza è una reminiscenza delle idee. Conoscere equivale a ricordare, perché attraverso lo stimolo, il pungolo costante delle cose del mondo, gli uomini, le anime, progressivamente possono ricordarsi delle idee, idee, possono avere ricordo, reminiscenza delle idee, idee che hanno dimenticato una volta che hanno assunto un corpo specifico. Invece, in Aristotele, la conoscenza è lo studio dell'essere in quanto essere, vale a dire dell'essere in generale, l'essere nelle sue caratteristiche assolutamente generali. E così si conclude questo nostro nuovo video in attesa della nuova sere che riguarderà Aristotele. Iscrivetevi al mio canale e ci vediamo alla prossima. iscrivetevi al mio canale e ci vediamo alla prossima.